Ciao a tutti ragazzi, questo è un nuovo video di Chiebri, un vero romanzo di Brawl Stars Lini Io sono Brawl Stars, se voi siete i Brawl Stars Lini Ok, oggi giocheremo Ah, però, lo scorso video Come lo scorso video Ok Stiamo entrando Ok Sì, mi servono Ok Iniziamo Aspettiamo di non beccare una soli Ok Sorry Andiamo Ok Sono morto C'è una quinta Ok Oggi Come Lo scorso video Le partite Mi dispiace però Eh Sono Potremmo mangiare perchè mi sono sbagliato Da poco Qui Quindi Ho messo meglio di me come ci permette Allora, adesso era meglio di me Ma io lo scasso Anzi, lui mi sta scassando Per me Ho detto Grazie Aspetto al gioco ancora Ecco Terzo partito Siete stati fortunati Perchè io prendo lo scolto di FG Partita Comunque se vengo a questo Chiudo il video E ti può ripoterti Lo porto Lo chiudo Come si Ok Alla prossima Ciao a tutti, spero che vi piaccia questo video